Guardate, siamo noi! Sarà pure un canale scadente, ma almeno i Simpson sono in TV! Ah, il nostro viale è ostruito dalla neve! Il vecchio signor Inverno! Proprio così, io ricopro i vostri viali di ghiaccia e neve! E adesso cosa farete? Niente, ecco cosa! Fermo! Mister Spazzaneve! Fuori di qui, brutta, ingrata, stagione, via! Non mi fa male la testa, devo sbagliarmi un po'. Evviva! Salve, sono Mister Spazzaneve. Siete stanchi di ferirvi le mani con gli spartineve a turbina e farvi venire infarti a furio di spalarlo? Allora, telefonate a Clonda Ecke, 53226. Chiamate ora e riceverete una maglietta gratis. Riuscirebbe ancora a sorprendervi. Ma io sono molto tirchia, potrò permettermi un simile lusso? Assolutamente, ho i prezzi talmente bassi da farvi pensare che abbia il cervello bacato. Hai la licenza e l'autorizzazione del comune, vero? Sal zitto, bagarospo. Perciò ricordate! Mister Spazzaneve, questo è il mio nome, questo è il mio nome, chiama Mister Spazzaneve.